Buongiorno, siamo qui ai Murazzi per presentare la web della bicicletta elettrica in legno collegata alla manifestazione Terra Madre Slow Food e abbiamo avuto la possibilità di presentare e esplorare le nostre biciclette in questa nuova location, appunto ai Murazzi Biciclè speriamo appunto che arrivi tanta gente e che possano vedere le nostre biciclette e i nostri pannellini flessibili per ricaricare telefonini e tablet